Muore all'ospedale Sant'Elia dopo che era stato predisposto un intervento chirurgico una donna di 53 anni, nota a Caltanissetta per la sua attività commerciale. Titolare di un negozio di piante e fiori in via Calabria, a due passi da Viale della Regione, in prossimità della Questura, dove ora si respira aria di profonda tristezza, era in prima linea non solo nella preparazione di matrimoni e altre cerimonie, anche nella realizzazione degli addobbi floreali di diverse manifestazioni della Settimana Santa Nissena. Antonella Geraldi lascia il marito Michele Palermo, col quale condivideva anche l'esperienza lavorativa e i figli Federica e Marco. Dopo la morte della donna, i familiari si sono rivolti ai carabinieri e assistiti dagli avvocati Massimo Dell'Utri e Giuseppe Panepinto, ora chiedono approfondimenti sulle cause del decesso avvenuto il 6 gennaio e su tutte le fasi successive all'arrivo al pronto soccorso e al ricovero nel reparto ospedaliero. Elementi utili in tal senso potrebbero emergere già dalla cartella clinica che è stata richiesta. Antonella Geraldi era una persona stimata per la passione e la dedizione che metteva ogni giorno nel suo lavoro, con un atteggiamento sempre solare e disponibile. Sui social sono centinaia i commenti di amici, parenti e semplici conoscenti che esprimono sentito cordoglio e la ricordano con parole cariche d'affetto e notevole commozione.